Grazie a tutti. Il progetto, che si pone come obiettivo la cura e la manutenzione civica dei beni comuni, ha previsto l'organizzazione di uno sportello aperto settimanalmente presso gli uffici comunali, attivo nella promozione, nella valorizzazione e nel coordinamento del volontariato. L'amministrazione comunale negli ultimi anni ha sentito l'esigenza di promuovere la partecipazione dei cittadini nella condivisione dei programmi e delle progettazioni urbane, ma anche di avere i cittadini più al fianco nelle attività di tutela dei beni comuni. La filosofia dei beni comuni è molto cresciuta, però ha bisogno di azioni che siano concrete. Queste devono essere organizzate dall'ente locale. I cittadini possono avere una maggiore propensione a rendersi utile, però ha bisogno di organizzare queste attività. Quindi si è resa necessaria la creazione di un'agenzia che consentisse di fare incontrare questa disponibilità dei cittadini con le attività che si possono rendere utili. In concreto, gli addetti allo sportello, aperto tutti i lunedì dalle 9 alle 13, registrano in banca dati i nuovi volontari che vengono per iscriversi, incrociando poi queste adesioni con le richieste di personale volontario giunte da parte delle diverse associazioni del territorio comunale. Laboriosamente, oltre a rivolgersi a volontari che si vogliono autopromuovere a svolgere lavori di pubblica utilità, accoglie anche persone obbligate a impegnarsi in sanzioni riparative o cittadini invitati dai servizi sociali e sociosanitari a rendersi utili per la comunità, al fine di soddisfare esigenze di socializzazione o di restituzione per quanto ricevuto come aiuto sociale. In Emilia-Romagna, con la riforma della legge sul volontariato, è stata istituita la giornata annuale della cittadinanza solidale, svoltasi per la prima volta il 27 settembre 2014, e che ha visto la partecipazione di 40 volontari di laboriosamente impegnati nella pulizia di alcune aree verdi della città. Questa è simbolicamente la giornata che deve rappresentare anche queste forme nuove di partecipazione. Non sono disgiunte dall'attività del volontariato, anzi, rinforzano, potenziano il bisogno delle associazioni già organizzate nella richiesta di avere nuovi volontari. Al contempo permettono ai volontari di fare esperienze di volontariato in specifici settori del volontariato, quindi questo può essere propedeutico e anche stimolante successivamente a diventare corpo e parte di un'associazione di volontariato. Laboriosamente, segue attentamente le iniziative promosse da associazioni di volontariato, comitati di cittadini attivi e cooperative sociali, e in sinergia con questi soggetti, offre nuovi contesti partecipativi per far crescere una cittadinanza attiva, come dimostra la stretta collaborazione con l'associazione Città Meticcia. L'associazione Città Meticcia è un'associazione di volontariato, si occupa di immigrazione, soprattutto di sostegno e di aiuto alle donne e ai minori, i bambini, e per questo noi abbiamo due dopo scuola. Uno è estivo, quest'anno aveva 47 bambini, ma in genere sono sempre così numerosi, e un altro che va da ottobre a maggio, sono due giorni alla settimana, di sostegno scolastico, e per un numero più limitato, ma quest'anno per esempio erano 27. Come volontario di Laboriosamente, che cosa svolge presso insieme a Città Meticcia? Beh, io faccio l'autista, accompagno i bambini da casa fino al dopo scuola, e poi li riporto indietro alla fine del dopo scuola. Sono due giornate alla settimana, il lunedì e il mercoledì, e facciamo due viaggi, perché sono 14 bambini normalmente, il pulmino ne porta solamente 7. Ovviamente c'è un altro collega che mi aiuta come accompagnatore, per farli salire, scendere, accompagnarli a casa, attraversare le strade. Laboriosamente è stato per noi una cosa che veramente ci ha molto molto aiutato, perché le associazioni di volontariato spesso hanno delle difficoltà, difficoltà di vario genere, per esempio una difficoltà a reperire anche gli autisti, perché noi non riusciamo a trovare una persona che si impegni così tanto per così lungo tempo. Allora, come ti chiami? Blessing. Quanti anni hai? Dieci. Ti piace andare a scuola? Sì. Qual è la tua materia preferita? Storia e matematica, le c'è a tevole anche arte. E ti piace andare al dopo scuola di Città Meticcia? Sì. Che cosa fai a questo dopo scuola? Mi imparano molte cose e anche molti giochi, divertentissimi. E certe volte vengo a fare anche compiti. Con oltre 100 volontari iscritti e collaborazioni avviate con diverse realtà del territorio Ravennate, Laboriosamente rappresenta un laboratorio di nuove idee di sussiderietà che promuove anche iniziative di socializzazione e giornate speciali di manutenzione civica per far sapere ai cittadini che, se vogliono, possono rendersi attivi in modo nuovo, responsabile e solidale. L'assunto alla base dell'intero progetto è che le persone sono portatrici non solo di bisogni, ma anche di capacità, e queste capacità possono essere messe a disposizione della comunità per contribuire insieme alla pubblica amministrazione a dare risposte a problemi di interesse generale. Grazie per la visione!